di malefatte varie. Quindi voglio dire al vero candidato a sindaco di questa campagna elettorale, il vero candidato a sindaco del centro-sinistra, che come hanno detto gli amici delle mie liste, l'unione dei comuni non è un fatto personale, non è un luogo privato di gestione, non è un'associazione privata, è l'unione dei nostri comuni e chi la rappresenta e intende fare politica attiva in questa campagna elettorale nella qualità di Presidente dell'unione dei comuni e non di mero rappresentante del partito democratico seppur a quale riconosco una leadership locale dello stesso partito, ma che fa campagna elettorale nella qualità di Presidente dell'unione dei comuni, cosa che trovo quanto meno inopportuna, noi siamo sfavorevolissimi all'unione dei comuni, c'è Alessandro che l'ha programmata addirittura, io sono cosciente che bisogna dare un impulso territoriale, chi più di me che parla sempre di Cilento, oltre che di Agropoli, ma non è quello che hanno evidenziato gli altri, un luogo dove poter fare in modo che non venga gestita la cosa con i vincoli specifici della pubblica amministrazione, una unione che è un ufficio di collocamento per parenti e amici che poi non ritroviamo nell'unione stessa, perché l'unione come diceva Alessandro ha quattro vigili urbani a part time come dipendenti, pur avendo fatto concorsi importanti negli anni banditi in estate, uno ricordo, per istruttori amministrativi e tecnici. Non serve a ovviare il patto di stabilità all'unione dei comuni, è il Presidente dell'unione dei comuni, è rappresentante di tutti i comuni che ne fanno parte, quindi di tutti i cittadini che vivono nei comuni, non può venire qui a dire che nel caso in cui non venga eletto il suo nominato di fatto alla carica come successore si bloccano i finanziamenti della regione Campania. È una cosa gravissima, inaudita a mio avviso, perché addirittura si è parlato di finanziamenti già previsti, di Bretelle, di Masterplan e di tutto quant'altro hanno elencato in questi giorni soltanto per evidenziare la loro vicinanza al Presidente della Giunta regionale. Io continuo a non chiamare governatore, com'è giusto che sia. Questa vicinanza ostentata, a mio avviso, non rispetta nemmeno i cittadini di Agropoli, perché da quella politica si vedono defraudati continuamente, presi in giro, a cominciare dall'ospedale e dalla politica della pianificazione sanitaria territoriale. Sono loro che la fanno, l'amico o non l'amico. Noi faremo dei progetti, abbiamo persone competenti, abbiamo persone competenti nel Comune, ne abbiamo tante altre che sono disponibili a lavorare in una cabina di regia per il PNRR. Allora basta con l'ostentare queste catene di potere feudali, perché nel 2022, dopo quello che abbiamo passato in questi due anni, io penso che siamo tutti stanchi, penso che lo siete tutti voi. Non stanchi di sentirci, vedo e sono contentissimo e vi ringrazio tutti. Si è presentato addirittura, sempre in campagna elettorale, come rappresentante sempre del Presidente della Regione al masterplan, quindi fare politica sempre nella qualità di rappresentante di una regione campania che deve rappresentare tutti i campani. Non esistono campani del PD, campani di Fratelli d'Italia, esistono i campani per chi amministra la Regione campania, senza distinzioni, come esisteranno gli agropolesi per il sindaco Raffaele Pesce, senza distinzioni. La differenza è nel metodo, nell'approccio culturale alla visione della politica. Io vedo una comunità, vedo persone che insieme fanno la comunità. Non vedo voti in questo momento, non le vedo nemmeno in campagna elettorale. Altro argomento in questi giorni è l'agropoli servizi, l'agropoli servizi che abbiamo visto lavorare alacremente in questi giorni. Allora magari dobbiamo fare una campagna elettorale all'anno. Ogni sei mesi, ben venga allora, ma non si possono prendere in giro i cittadini. Io mi rendo conto delle difficoltà, ma mi rifaccio soltanto sempre a quanto detto da questo palco. Noi siamo i nemici dell'Unione dei Comuni, i nemici dell'agropoli servizi. Assolutamente falso. Noi abbiamo la stessa capacità di vedere le cose e le necessità del Comune, ma vogliamo risolvere le cose diversamente. Le assunzioni le intendiamo senza mediazione politica. Intendiamo fare in modo che i lavoratori della manutenzione, dopo una vita di lavori pesanti e usoranti, vengano collocati diversamente. Intendiamo che le assunzioni vadano fatte così come per legge. Intendiamo apporre sempre la clausola sociale per i lavoratori delle cooperative. è previsto nel codice degli appalti la clausola sociale, a tutela dei rapporti di forza. Dobbiamo difendere il lavoratore debole, non può essere ricattato nelle campagne elettorali. E questo non è una visione né di sinistra, né di destra, né di centro, è semplicemente una visione umana, l'uomo al centro della politica e dell'amministrazione. Questo è il nostro richiamo a dei valori che hanno fondato la democrazia. Persone che si sono battute per la giustizia sociale e per la libertà che si ritrovano nel nostro movimento, con visioni diverse, ma che mettono sempre a centro l'uomo. Non le cose, non le 120 opere ostentate, ma l'uomo, il modo in cui vive, in cui lavora, in cui relaziona. Non ci sono più rapporti sociali, questa piazza è un deserto, non si discute più. L'anima ha abbandonato questa città. Possiamo fare tutte le opere, tutti i finanziamenti del mondo. Non servono, ricostruiamo noi stessi. diamo la possibilità a questi ragazzi di crescere con un'altra visione della politica. Io non sono il loro maestro, spero di essere semplicemente una guida in un approccio diverso alle cose, alla politica, con quella temperanza, con quella volontà che avevo già alla loro età e che non ho mai perso. Bisogna fare i concorsi al Comune di Agropoli, innanzitutto. bisogna fare in modo che il segretario comunale sia a tempo continuato nel Comune di Agropoli. E saluto un grande segretario comunale che mi sta sentendo stasera, già segretario di Vassallo, Gerardo Spira. In questi momenti, purtroppo, devo dire, ho dovuto leggere degli articoli stamattina riguardanti la gestione passata del Comune. È una problematica che ha investito anche amici e conoscenti, sia a livello politico che a livello di funzionari. Io sono e sarò sempre un garantista. Non farò mai mia bandiera il giustizialismo, ma non posso sottacere che le mie perplessità in questa vicenda che vede oggetto di un'indagine l'Agropoli Servizi e l'ente comunale. Quello che mi preoccupa non è l'ipotesi, che è sempre un'ipotesi della Procura della Repubblica. Non stiamo parlando di un giudizio, non stiamo parlando, ribadisco, sono ipotesi e io resto garantista. Quello mi preoccupa. È soltanto un'ipotesi che sia stato occultato, un disavanzo per circa 2 milioni di euro, con riferimento al rendiconto 2016. Questo sarebbe molto grave, però spero che ne escano sicuramente illesi gli amministratori. Spero che la Procura della Repubblica di Vallo dell'Ocania abbia preso un abbaglio. Resto però ovviamente perplesso per quanto riguarda la posizione del Comune e delle risorse comunali a questo punto. Ma ribadisco, non può essere un'arma in campagna elettorale, una inchiesta giudiziaria. Non la farò mia, credo nel principio della presunzione di non colpevolezza. Sia per mia visione delle cose, appunto l'uomo al centro, che della politica. Spero che abbiano preso un abbaglio. Voglio ancora dire, ribadisco questa sera, devo soffermarmi purtroppo su cose dette sulle quali io non avrei voluto nemmeno interloquire, ma siete ancora tanti e avete assistito ad altri comizi di ben alto tenore. Perché c'è chi tende sempre di abbassare il livello di questa campagna elettorale. Noi cerchiamo di sollevarlo, di parlare delle cose, c'è chi invece nella qualità non di semplice aderente ad un partito, non di semplice cittadino, ma la cosa grave da segretario di un partito, del primo partito di Agropoli, ci invita, non è che ci invita, dice ci manderà a fare il bagno, manderà a me e agli altri colleghi che hanno avuto la forza e la faccia di candidarsi al sindaco contro questo tipo di visione della politica. Dicono che ci manderanno a fare il bagno. Una caduta di stile che trovo nel 2022 veramente di cattivo gusto. Ma dato che io ho una coscienza pulitissima e a posto, sto in pace con me stesso per quello che ho creato e quello che ho creato sono loro e siete voi, io a mare ci sto andando già e quindi perché sto tranquillo, non aspetto che mi ci mandino, ci vado e vado, sono costretto a andare, come diceva un amico giornalista oggi che saluto, sono costretto a andare, non posso andare in posti bellissimi, deturpati dalle amministrazioni che hanno gestito negli ultimi anni Agropoli, dove sarei andato, ma devo andare nei pochi posti rimasti di Agropoli che sia per volontà che per incuria delle precedenti amministrazioni sono lasciati nella disponibilità di noi agropolesi. Quindi cerchiamo di sollevarla questa politica di Agropoli, ma c'è una cosa più grave, è stato detto su questo palco, sempre dal segretario del Partito Democratico che tutti i candidati a sindaco avrebbero voluto e hanno chiesto addirittura di essere candidati con il centro-sinistra agropolese. Allora questa è una menzogna che tutti quanti sapete che è perché avete conosciuto il nostro escursus politico in questi mesi, sempre coerente, sempre a testa alta per le strade di Agropoli. Non abbiamo mai partecipato ad alcuna riunione di questo centro-sinistra che per me non è il vero centro-sinistra. Non siamo stati né invitati, nemmeno avremmo partecipato al famoso tavolo del centro-sinistra, quello delle fantomatiche primarie. Non abbiamo mai partecipato, non abbiamo chiesto nulla e non siamo abituati a chiedere nulla, perché noi abbiamo avuto una visione, la visione del civismo. Ci hanno magari corteggiato alcuni partiti che lo stanno facendo ancora oggi consapevoli della nostra forza e della forza che stiamo dimostrando quotidianamente. Ma noi siamo civici, non abbiamo chiesto niente, quindi mi meraviglio. E questa cosa è davvero spiacevole, questa bugia detta su un palco, perché io credo molto e credo ancora nei rapporti umani. E quando mi rendo conto che c'è pochezza umana, perché politica non ne ho vista, politica zero, ma c'è pochezza umana, allora resto male, perché io antepongo e anteporrò sempre il rapporto umano al rapporto politico, ma dai palchi e soprattutto quando si rivestono cariche di quel tipo, non si possono dire bugie. Perché fu lo stesso personaggio politico a dirmi, avanti a quel bar, pochi giorni fa, a campagna elettorale, già iniziato, lo sai che io a una riunione proposi addirittura il tuo nome, perché riconosco in te delle capacità e dei valori, dato che ci conosciamo da sempre. E poi vieni sul palco a insinuare in voi e nei miei il falso, subdolamente. Ma questa non è politica, ma è del peggiore arlecchino, vero servo sciocco e malefico. Ma non si può fare politica in questo modo, ma svegliamoci, ma noi vogliamo veramente essere rappresentati in questo modo da persone che intendono che sia questa la politica. Ma questo è. Oppure da chi ha ordito soltanto congiure negli ultimi cinque mesi, nei confronti di un capro espiatorio che saluto, ha ditato come unico responsabile di quelli che sono stati cinque anni di amministrazione. Ma questo è il modo di trattare le persone e di trattare gli elettori, di porsi come nuovo quando si è amministrato il Comune negli ultimi cinque anni, tutti insieme, tutti su questo palco e su questo palco è possibile vedere persone che non hanno fatto altro di dire che il grande capo era il male assoluto da battere e poi si sono candidati con lui. Ma è possibile essere presi in giro così? Che interessi ci sono? Che interessi ci sono? Mi chiedo. Sicuramente l'interesse non è il Paese, non è Agropoli. Hanno preso in giro le persone, hanno parlato soltanto contro, io non ho parlato mai contro le persone in una campagna elettorale intera e nei mesi precedenti, mai. L'unico loro obiettivo era di scardinare il potere di Franco Alfieri e oggi sono candidati con lui per preplende e interessi particolari, si dovrebbero vergognare. Io in altre riunioni, due riunioni e in incontri informali, ho detto sempre che la mia visione politica è altro. Non vado contro né Franco Alfieri né Roberto Mutali Passi, me mi ero posto contro le persone e contro Adamo Coppola, ma contro un metodo di individuazione di eredi della politica e di un sistema feudale. tante altre cose le ho riconosciute, fatte e le riconosco ancora oggi perché sono coerente e lo sarò sempre. Probabilmente per questo non hanno argomenti per attaccarmi, perché ho la consapevolezza anche di quello che sono e non ho problemi a venire a salutare Mutali Passi e Franco Alfieri come ho fatto nell'ultimo loro comizio, perché questa è politica. La politica non è l'ingiuria, la menzogna e la falsità. La politica è il rispetto dell'avversario e io rispetterò sempre gli avversari in campagna elettorale perché non sono nemici e se ci sono persone che credono spontaneamente in loro, sono persone comunque da rispettare. Non li ha dito, però so che ci sono persone che hanno come unico motivo di impegno, l'interesse personale, persone che non hanno neppure bisogno di essere servili per non dire altro, ma che lo fanno per vecchi interessi personali. Questi no, questi vanno abiasimati. Non chiederò mai il voto, come già ho detto, a chi ha bisogno e chi deve votare in determinato modo. Non lo chiederò per non metterli a disagio, perché come ho detto io, i rapporti di forza non vanno riversati nella politica in quel modo. Il debole va tutelato, sempre, anche nella richiesta di voto. Che io non faccio a nessuno, non l'ho fatta, perché sono candidato a sindaco e mi conoscete tutti e avete visto chi siamo e chi siamo stati in questi mesi, diversamente dagli altri. Altri che si trovavano candidati da una parte, ora si trovano candidati lì, nella stessa campagna elettorale. Cambiare è umano, ma cambiare in questo modo non lo è, non è possibile. Ma questa è la politica che, come diceva Daniele, i ragazzi ormai avversano, se ne allontanano. Ma questa è la politica che noi dobbiamo combattere. Ma dobbiamo essere fermi in questa convinzione, proprio per far ritornare i ragazzi a fare politica. Il fatto che noi non promettiamo niente, ma soltanto il nostro interesse alle cose, cose importanti, cose che per primi abbiamo detto come il sistema della viabilità delle navette ecosostenibili, elettriche. Come disse in una riunione, che cosa faresti con l'imposta di soggiorno? La manterresti? Certo che la mantengo. Compro le navette, semplicemente, per girare nel paese. Cose visibili, non un gettito di imposta che non abbiamo visto, spalmato per il turismo stesso. Tante cose si possono fare, si possono fare sempre con la salvaguardia ambientale. Non è vero che bisogna soltanto usare il cemento armato nel 2022 per rendere bello un paese e per rendere fruibile tutte le aree, anche culturalmente. Noi dobbiamo investire sulla cultura, sullo spettacolo, su un turismo diverso, creando degli eventi che abbiano risonanza anche internazionale, nel teatro, nella cultura, nella letteratura internazionale. Abbiamo uno spettacolo della natura che è Trentova, la parte degradante sopra il parcheggio, che già è comunale. Lì si potrebbe tranquillamente, con una spesa minima, creare un teatro soltanto con assi di legno e poco metallo, alluminio. Un'opera, un teatro o anfiteatro che guarda il tramonto, che è già uno spettacolo, dove fare spettacoli abbiamo la possibilità. Già c'è un parcheggio, già c'è il punto ristoro. Non ci vogliono grandi risorse, ci vogliono le idee, ma ci vuole l'amore per la città. Non bisogna solo aspettare il finanziamento senza avere una visione di quello che va fatto e di quelle che sono le esigenze. Le esigenze è la cultura, e il vivere sociale. Sono i servizi sociali demandati anche quelli a poche cooperative dove ci sono interessi importanti di chi parla e si erge pure a critico. Lasciamo perdere. C'è tanto da fare in questo Paese e non c'è bisogno di indebitare ancora di più gli agropolesi, perché come diceva Alessandro Rizzo prima, c'è stata la possibilità di accendere i muti perché si è trovato un Paese che era ancora nella possibilità di farlo. Era sano. Tante opere sono state fatte. Va bene, lo riconosco, è innegabile, ma come sono state manutenute? C'è stato un programma della manutenzione di queste opere. A chi sono state affidate? Come sono state affidate? Che ritorno c'è stato per questi investimenti che sono stati fatti in alcune opere che potevano portare economia al Paese? Che investimenti? Che ritorno economico c'è stato? Che tipo di gestione c'è? Non è solo la costruzione, è la ditta che costruisce il fine dell'amministrazione. È l'uso, è la visione, è il trattare allo stesso modo le associazioni e soprattutto le mancate promesse. Non è possibile per gli amministratori dire sempre sì, promettere sempre e non mantenere, perché anche le associazioni sportive e culturali con queste promesse poi mancate possono trovarsi in difficoltà, gli facciamo passare guai economici, non si possono portare a sperdere, come si usa dire per la strada, le persone e le associazioni, perché poi si demorde nello spirito che è a sostegno delle associazioni. Altre associazioni vengono create proprio per quell'ottica di finanziamento, di recupero di risorse e lavorano solo per quello, ma quelle sono associazioni ad hoc. Noi creeremo un'associazione, non finisce con la campagna elettorale, lo dico sempre, perché bisogna operare nei nostri campi di competenza, abbiamo la possibilità di avere l'aiuto e il consiglio di tantissime persone, di età diverse, di esperienze diverse, politiche, professionali. Diceva Daniela non ci sono più idraulici, abbiamo l'idraulico ed è anche bravo, eccolo, è candidato, Roberto Valente, un ragazzo valido che conosco da sempre, da quando giocavamo a basket, ma è un nome per tutti, abbiamo tutti i tipi di persone, tutti, altro che radical chic, altro che elite. Non ho mai avuto questo tipo di approccio col mondo, da sentirmi elite, da sentirmi migliore, no, perché ho avuto, come dicevo già nell'altro comizio, un'educazione che mi ha portato a trattare sempre il prossimo come me stesso e tutti alla pari, io ho visto trattare il contadino ed il ministro allo stesso modo da chi portava questa cravatta. Quindi il mio appello in questa piazza che mi ha visto crescere, mi ha visto discutere di politica sempre, con animi diversi che mi hanno fatto, mi hanno dato modo di impegnarmi, di crescere, di vedere le cose con una ottica diversa, perché le cose bisogna prima di tutto vederle per affrontarle, c'è pure chi non le vede affatto, chi non le vuole vedere. Io quando vedo lo stato in cui versa Agropoli mi sento sempre in dovere di fare in modo che le cose cambino. È stato, come ho detto nel video che mi hanno fatto gli amici, è stato il motivo per cui abbiamo deciso di essere presenti questa sera sul palco e in questa campagna elettorale. Non ci siamo più, non possiamo vedere un Paese tenuto in così bassa considerazione da chi l'amministra. Non è più consentibile per i giovani, per noi stessi che ci viviamo, per i turisti che vengono, per l'economia stessa. Partendo dalle piccole cose, dal nostro modo di comportarci quotidianamente, è un appello anche alla cittadinanza tutta, a ritrovare lo spirito e al senso civico. Ma devo dire pure che ho riscontrato in questi giorni un'attenzione quasi sperata. Nella mia persona, quotidianamente, le persone mi avvicinano, mi contattano, dicono noi siamo con te, sei la speranza. Va bene, io ringrazio tutti per questi attestati di stima, ma invito tutti a rafforzare le due liste che mi rappresentano e che rappresentano il movimento. Perché è fondamentale. Sappiamo bene che nei Paesi sopra 15.000 abitanti c'è la possibilità di fare il voto di sgiunto e io ringrazio tutti per questi attestati che ricevo quotidianamente. Ma vi invito a votare queste persone, persone reali che mi hanno seguito volontariamente, che non ho dovuto sollecitare più di tanto e che fanno parte di una visione diversa della politica. Quindi votate liberi e forti con una croce sul simbolo e libertà e partecipazione su una croce sul simbolo. E ponete il nome dei consiglieri che ritenete validi. Consigliere uomo, consigliere donna o solo un consigliere, è possibile anche questo, una lezione di voto soltanto. Però ricordiamolo, preferibile il doppio voto, uomo-donna o donna-uomo. Ma votiamo le liste, rafforziamo questa possibilità per il Paese di cambiare le cose, di dare un'altra impronta, un'altra immagine anche fuori. Volete essere amministrati da chi prende ordine o da chi è libero la mattina di alzarsi e pensare a quello che deve fare da sindaco? Sbagliando o meno è che si consiglierà comunque con gli altri suoi colleghi dei comuni, perché è abituato al rispetto reciproco. Io collaborerò con tutti i sindaci del territorio, a cominciare al sindaco di Capaccio Pesco, nel caso si debba lavorare. Sarò nell'Unione dei Comuni, ma a testa alta e paritariamente, sempre, come sono abituato quotidianamente. Non prendo ordini, mai, se non da voi, dalla cittadinanza che mi eleggerà. E sono sicuro del vostro apporto, perché siete ancora qui alle dieci, dopo due ore più, a sentirmi e a sentire i miei amici, perché noi siamo amici e crediamo nell'amicizia. E' questa la svolta, l'amicizia, il senso di appartenenza e di comunità. Il mio partito è Agropoli e il nostro partito sarà Agropoli. Convidate in noi e votateci, Raffaele Pesce, le due liste. Grazie a tutti e grazie a tutti voi di nuovo e agli amici che mi hanno sostenuto e mi sostengono.